Musica Castellabate trovato in spiaggia il corpo senza vita di un uomo. Sant'Arsenio stop temporaneo al confedimento dei rifiuti interviene il comitato nobio metano da questa mattina ripresa regolare del servizio. Scuola domani suona la campanella i messaggi di auguri da sindaci e assessori. Sala Consilina inaugurata la nuova lanterna 2.0 peccati di gola sotto la gestione dei fratelli Tropiano. Sala Consilina, il Vallo di Viano, tappa di enduro in bike, successo a Sala Consilina per la tappa organizzata da Biking Tour. Musica Buongiorno e bentrovati, apriamo con la cronaca sciocca Santa Maria di Castellabate. Sulla spiaggia è stato trovato il cadavere di un uomo a fare la mara scoperta a due passanti. Triste risveglio questa mattina per gli abitanti del comune di Castellabate. Il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato da alcuni passanti sulla spiaggia del Pozzillo a Santa Maria. Il cadavere è di Domenico Di Sessa, di anni 39, noto titolare di una struttura ricettiva del posto. L'uomo probabilmente ha avuto un malore, ma a chiarire l'esatta dinamica dei fatti sarà ora l'autopsia. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale, il quale effettuerà un primo esame esterno. Presenti anche i militari della locale Capitaneria di Porto, diretti dal comandante Giulio Cimmino. Gli inquirenti, che sono a lavoro in queste ore per chiarire la dinamica dei fatti, non escludono una caduta accidentale in acqua con un probabile annegamento. Con lo stop al termovalorizzatore di Acerra e il servizio di raccolta rifiuti sta subendo non pochi problemi. A Sant'Arsenio, nei giorni scorsi, è stato emesso un avviso in cui è stato disposto lo stop al conferimento. Una decisione che ha portato ad intervenire il comitato no biometano. Intanto da questa mattina il servizio è regolarmente ripreso. La questione legata alla gestione dei rifiuti con lo stop del termovalorizzatore di Acerra diventa anche motivo di frizioni nei comuni per le problematicità legate alla necessità di ridurre i conferimenti ed evitare il sovraccarico dei siti di stoccaggio. A Sant'Arsenio, nei giorni scorsi, il comitato no biometano è intervenuto sulla decisione dell'amministrazione comunale di sospendere temporaneamente il conferimento dei rifiuti delle frazioni indifferenziato, carta e cartone, vetro e plastica. L'emergenza sembra essere rientrata dato che nella serata di ieri il sindaco ha annunciato la ripresa del servizio fino a nuova disposizione. Restano però le difficoltà dovute allo stop dell'impianto con il comitato no biometano che ha elogiato il comune di Atena Lucana per la tempistica nella predisposizione di adeguata ordinanza al fine di evitare lo stop del servizio di raccolta rifiuti. Alla nota della General Enterprise, dichiara la presidente del comitato Anna Maria Rizzo, l'amministrazione ha sospeso il servizio scaricando il problema sui cittadini che sono stati obbligati ad accumulare i rifiuti nelle proprie abitazioni e con il rischio di abbandono degli stessi nelle campagne. Il disservizio ha spinto il comitato a chiedere perché la ditta incaricata della gestione del servizio pur essendo a conoscenza della chiusura degli impianti non abbia pianificato azioni per supplire la problematica. Inoltre, ricordando come la mancata raccolta dei rifiuti può configurare il reato di interruzione di pubblico servizio, dal comitato si chiedono se e quali verifiche sono state adottate dai referenti per il controllo della gestione del servizio esternalizzato. Che cosa prevede il contratto di appalto del servizio in questi casi, chiedono all'amministrazione comunale. Non avendo provveduto la ditta, perché non è stata l'amministrazione comunale ad intraprendere azioni per gestire le difficoltà, oltre a chiedere la collaborazione dei cittadini? Il servizio di raccolta rifiuti, come detto, è stato regolarmente ripristinato a partire da oggi, 10 settembre. Il sindaco Donato Pica ha disposto, secondo quanto si legge nell'avviso, il ripristino temporaneo del servizio di conferimento rifiuti, sino a nuova disposizione, chiedendo alla cittadinanza, viste le difficoltà dovute allo stop dell'unico impianto di incenerimento a disposizione, la massima collaborazione. Andiamo a Teggiano. Gli operai del Consorzio di Bonifica, Vallo Didiano e Tanagro, sono a lavoro per le operazioni di pulizia dei canali. In particolare, in queste ore, sono impegnati nella pulizia del canale Lamarrone Nuovo, in località Fiego. Una pulizia che non riguarda solo le serpaglie presenti lungo il corso d'acqua, ma che ha portato anche alla considerevole raccolta di rifiuti di ogni genere. Ancora una volta, quindi si è costretti a fare i conti con incivili, che anziché rispettare le regole in materia di conferimento dei rifiuti, hanno preferito abbandonarli nell'ambiente. Danno anche delle acque che vengono utilizzate prevalentemente per l'irrigazione dei campi. Diversi i sacconi che gli operai hanno riempito per la differenziazione dei rifiuti e per provvedere all'adeguato smaltimento. Le operazioni sui canali proseguiranno anche nelle prossime ore. Cambiamo argomento. Suona domani la prima campanella dell'anno scolastico. Arrivano i messaggi di auguri da sindaci e assessori del territorio. I primi a scrivere lettere a studenti, docenti e famiglie sono stati gli amministratori di Sanza, Sant'Arsenio e Sala Consilina. Suona domani la prima campanella dell'anno scolastico. Arrivano i messaggi di auguri da sindaci e assessori del territorio per studenti, sia per chi varca per la prima volta le porte della scuola, sia per chi ha già intrapreso il percorso di studi, ma anche per famiglie, insegnanti, dirigenti e operatori degli istituti scolastici. Sono lettere di incoraggiamento per l'anno che verrà e lettere di bilanci su quanto è stato fatto per la comunità scolastica da parte della politica. Al mondo della scuola, che domani prende il via, non mancano infatti i problemi degli organici e delle strutture, ormai calcificati, così come quelli legati al diritto allo studio, all'inclusione e all'efficienza del sistema educativo. Oggi, a poche ore dal suono della campanella, è innanzitutto però tempo di auguri. Tra i primi ad arrivare quelli dei sindaci di Sant'Arsenio, Donato Pica, di Sanza, Vittorio Esposito e dell'assessore alla scuola di Sala Consilina, Michele Galiano. Da Donato Pica e dalla sua squadra amministrativa, gli auguri di buon anno scolastico, riconoscendo la priorità e il ruolo centrale dell'istruzione e della formazione all'interno di una comunità, rinnovano il massimo impegno e la completa disponibilità a favore delle strutture di competenza dell'ente ubicate sul territorio. Per i ragazzi e gli adulti di Sanza, invece, un messaggio di incitamento a operare innanzitutto con passione arriva dal loro primo cittadino. La scuola, si legge nella lettera Messaggio di Esposito, è il luogo dove si costruisce il futuro. Oggi, che siete il presente, avete la responsabilità di chiedere il meglio che noi, istituzioni e società civile, possiamo offrirvi. Dunque, non esitate a pretendere, a sollecitare la società dei grandi a fare ciò che è necessario per costruire la società di domani così come la immaginate e la desiderate. Nel mentre, però, non dimenticate di avere l'obbligo e il dovere di dare il meglio di voi a voi stessi. Come amministrazione comunale continueremo nell'impegno assunto per superare ogni barriera contro le chiusure e le discriminazioni. Voi, conclude Esposito, siate curiosi, studiate, non solo perché è un dovere, ma soprattutto perché è lo strumento per realizzare i vostri sogni. E da Sala Consilina, Michele Galiano parla alla comunità scolastica non solo come assessore, ma soprattutto come cittadino salese e genitore, augurando agli studenti, a tutti i protagonisti attivi, un anno ricco di soddisfazioni e nuove esperienze. Ragazzi, consiglia, studiate e impegnatevi dando il massimo perché, come sosteneva lo scrittore Leo Buscaglia, ogni volta che imparate qualcosa di nuovo, voi stessi diventate qualcosa di nuovo. Si svolgeranno domani mattina alle ore 10.30 i funerali del piccolo Luigi, morto a seguito della caduta di una cisterna contenente acqua. Nella giornata di ieri, l'autopsia sul corpicino che, secondo quanto emerge, avrebbe confermato come la morte sia sopravvenuta per lo schiacciamento provocato dal peso della cisterna. Un terribile dramma che ha colpito l'intera comunità valdianese e in particolare la comunità di Montesano sulla Marcellana. La cerimonia funebre si terrà presso la chiesa del Sacro Cuore Eucaristico di Montesano Scalo. Per l'occasione, il sindaco Rinaldi ha emesso ordinanza di lutto cittadino interpretandosi, legge nel documento, il sentimento di vicinanza e profonda solidarietà dell'intera comunità nei confronti della famiglia del piccolo. Secondo quanto disposto, le bandiere del comune saranno esposte a mezz'assa con gli agenti della Polizia Municipale che parteciperanno alle eseque con il gonfalone del comune. Inoltre, l'ordinanza dispone il divieto di svolgimento di qualsiasi attività ludiche e ricreative di qualsiasi comportamento che vada in contrasto con il carattere luttuoso della cerimonia e il decoro urbano. L'ordinanza prevede anche la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e la sospensione di ogni attività lavorativa in tutti gli uffici pubblici salvo prestazioni sanitarie e forze dell'ordine. Andiamo avanti. Da Sant'Arsenio, il sindaco Donato Piche e l'amministrazione comunale nel fare gli auguri di buon inizio anno scolastico fanno un bilancio sull'edilizia scolastica di competenza comunale garantendo il massimo impegno per scuole sicure e fruibili. Le scuole stanno per aprire le porte domani anche a Sant'Arsenio come buona parte della campania e il sindaco Donato Piche e l'amministrazione comunale nel fare gli auguri di buon inizio a tutti i soggetti coinvolti si soffermano sullo stato degli edifici scolastici locali tranquillizzando in merito alla sicurezza e rinnovando il massimo impegno e completa disponibilità a favore delle strutture di competenza dell'ente. Tra adeguamenti importanti e piccola manutenzione tanti lavori fatti e quelli in corso grazie ai finanziamenti ottenuti scuole sicure fruibili e plastic free a Sant'Arsenio è quanto garantito dal primo cittadino a poche ore dall'apertura delle aule. Vogliamo rassicurare la cittadinanza si legge nella nota sul costante monitoraggio delle condizioni di agibilità e sicurezza delle strutture in particolare sono stati presentati alla regione Campania progetti specifici che riguardano la scuola materna e la scuola elementare e nel contempo i locali attigui sempre di proprietà comunale adibiti precedentemente ad Asilo Nido e Ludoteca che sono tornati nella disponibilità del comune entro fine anno saranno messe a disposizione delle scuole dell'obbligo per attività didattiche spazi comuni e laboratori sono altresì in fase avanzata conclude Pica ricordando importanti finanziamenti per ristrutturazione ed edificazione ex novo di immobili scolastici i lavori per la realizzazione della nuova palestra scolastica in via Florenzano e dell'ala sud dell'edificio attualmente sede della scuola media dove verrà ubicata una nuova palestra infine per quel che riguarda l'ala nord e il corpo centrale della stessa scuola media sono in via di realizzazione altri interventi di sistemazione adeguamento come pure e si interverrà sull'altro edificio che viene utilizzato come mensa scolastica le procedure di gara per l'affidamento del servizio sono in itinere e verranno introdotte una politica plastic free oltre ad altre migliorie la pasticceria Peccati di Gola i dolci dei fratelli Tropiano arrivano nel centro di Sala Consilina ieri sera grande festa con la musica di Pino Pinto benne un ricchissimo buffet per l'inaugurazione della nuovissima lanterna 2.0 Peccati di Gola grande partecipazione e tanta emozione dopo tanti sacrifici fatti con tutta la famiglia oggi giorno dell'inaugurazione di questo stupendo locale che abbiamo cercato di creare qui nel centro storico di Sala Consilina dove tutta la famiglia tutto il team Peccati di Gola innanzitutto ringrazio perché sono persone che ci tengono a cuore e ci tengono veramente per questa bellissima azienda siamo contenti di aver investito qui a Sala Consilina ci crediamo molto perché veramente vogliamo dare un servizio innanzitutto tutto il popolo di Sala e tutte le persone nel comprensore del Vallo di Diano dove veniamo già da tanta esperienza in questo settore e cerchiamo sempre di dare il nostro meglio ci sarà pasticceria caffetteria rosticceria dove proponiamo una colazione ricca al mattino una buona pasticceria una buona rosticceria e poi visto che arriva il periodo autunnale invernale si possono gustare delle buone cioccolate dei buoni dei buoni tè infusi accompagnati con dei buoni dolcini lasciatemelo dire volevo ringraziare in primis i miei genitori mio fratello mia cognata e tutto lo staff Peccati Nicola veramente grazie di cuore a tutti quanti grazie stasera si inaugura una nuova attività all'interno della nostra cittadina una pasticceria che mancava al centro e sicuramente credo che debba essere un motivo di soddisfazione per tutta la cittadinanza tantissima gente presente abbiamo anche approfittato per fare un'isola pedonale su questo tratto di via Matteotti proprio per fare le prove generali di quella che per noi è stato un punto importante nel nostro programma elettorale di voler fare delle isole pedonali in determinate occasioni certamente credo che questo sia il segno che Sala Consilina è una cittadina ancora viva e appetibile tantissimi imprenditori ancora guardano a Sala Consilina ci dobbiamo solo credere tutti noi come amministrazione sicuramente ci chiediamo la maggior parte dei cittadini che ci hanno votato sicuramente ci credono ci dobbiamo credere un po' ancora più tutti quanti perché credo che sicuramente il futuro di Sala Consilina potrà essere eroseo attraverso l'apertura di queste e tante altre attività io voglio ringraziare la famiglia Tropiano perché oltre all'attività che già aveva Silla è venuta ad investire nel centro di Sala Consilina con questo punto vendita e laboratorio sicuramente sarà un motivo di ritrovo ci sono tanti altri locali anche nei pressi che sono stati aperti o che si apriranno quindi sicuramente credo che sia un nuovo punto di partenza per la nostra città ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio dopo una breve pausa in questo periodo estivo l'associazione Una Sapienza Onlus torna a stanza con gli eventi dedicati alla salute due gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane l'associazione La Sapienza Onlus in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sanz ed in particolare con il supporto del consigliere comunale delegato Antonio Citerà torna dopo una breve pausa con gli appuntamenti dedicati ai controlli preventivi e di tutela della salute già pronte due iniziative di cuore infatti i prossimi appuntamenti che l'associazione presieduta da Pasquale Citerà ha organizzato riguarderanno proprio il cuore i volontari torneranno in campo il prossimo sabato 21 settembre con il poliambulatorio comunale di via Fontana Vecchia che sarà aperto per la giornata di screening cardiologico gratuito i controlli saranno sostenuti dal dottor Carlo Vita direttore della struttura cardiologica dell'asle di Salerno Sud che ha accolto l'invito dell'associazione La Sapienza del consigliere delegato Citerà e raggiungerà a titolo gratuito Sanz mettendo a disposizione la sua professionalità dei cittadini ed in particolare di chi magari trova difficoltà a raggiungere i centri medici specialistici per effettuare i dovuti controlli cardiologici l'associazione quindi continua in questo percorso che avvicina i medici specialisti alla comunità sanzese favorendo i controlli preventivi da cui possono poi eventualmente scaturire laddove necessario cure appropriate per la salute oltre a ciò l'associazione La Sapienza Onlus ripropone nuovamente grazie a tutti 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 Grazie a tutti